Strutture, competenze e professionalità sono ciò su cui abbiamo cominciato a lavorare a marzo e sono i pilastri su cui fonderemo il futuro dell'Avellino nel lungo periodo. Oggi, complice anche l'emergenza sociosanitaria che stiamo attraversando, i nostri sforzi sono ancora concentrati, tutti in maniera esclusiva, verso questa direzione. Così, attraverso un comunicato stampa, il presidente Angelo Antonio D'Agostino ha fatto il punto della situazione in Casa Biancoverde per poi aggiungere, In piena sinergia con il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, i colleghi presidenti delle altre società e tutte le componenti istituzionali coinvolte, stiamo cercando il modo migliore per garantire la massima efficienza al club, nonostante le problematiche derivanti dal Covid-19. Questa società non nasconderà mai nulla ai tifosi, è una promessa che mi sento di fare da presidente e da uomo. A tale proposito, mi preme sottolineare che nessuna decisione è stata presa per quanto concerne. Un eventuale inserimento di un direttore generale o di qualsiasi altra carica, che sia essa relativa alla gestione amministrativa o a quella sportiva. Tutti gli argomenti, compresi quindi quelli relativi alla gestione sportiva, saranno affrontati solo dopo che gli organi e le istituzioni competenti avranno stabilito i tempi ed i modi di ripresa dell'attività. Fino ad allora continueremo a lavorare sugli aspetti burocratico-amministrativi con il solo scopo di allineare e risolvere tutte le problematiche che si sono trascinate negli ultimi mesi, ha concluso D'Agostino.